bella vecchi trapani, bella! Oggi lui c'ha i canori perchè sta a mani che corte e siamo tornati con nuove episodi di rotte divisione subito così poco cotto e mangiato ok questa divisione è stata andata molto bene non ci aspettavamo questi risultati così presto, così così agab dovevo to...eh si scusa stavo a pensare a scivolare che dovevo togliere la sonneria Hernandez, Hernandez il cicerito, il cicerito, il cicerito, Hernandez va avanti, continua, match walker no 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 porco cane porco ma che cazzo vabbè è quella dell'occasione ma che è? perchè si mette? ma che è un po' bandiera olè cultuà incredibile, magico, unico subito la palavera azar 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 vede la mire spartire non è vero, non troppo in colore ma che cazzo perchè vado da company, perchè vado da guero che cazzo era? non sei due no 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 dai, ma che è corvinciali Javier Hernandez quadrato le skill, quadratto la corsa incredibile, bellissimo quadratto! Lo vevo nessuno quadrato! Quadrato sul fondo la palla per... e che cazzo? ma chi era? se io sto andando avanti con carilla guarda non mi riesce a piacere vai no faffanculo cazzo mi ha scoppato prima ma se non so manco riesce ad attivare dai, ancora che cazzo? che cazzo? e che cazzo? assi di maria cuero ancora cuero un bello oh perro oh 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 no non ci posso credere che sei magnato non ci posso credere in mezzo? mettiamolo in mezzo no nel perro a64 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 4 in varietà, quella cosa bella la persona vabbè non è possibile però che pesce abbia sempre il pallone guarda oh ma perchè va sempre a lui finire il primo tempo 2 a 2 eh si può fa si può fare si può fare si può crescere e imparare poi ma che cazzo è? ma da dove vedi sta canzoncina? non c'è il testigo vabbè codicio poi non manca di che c'erano centrocampisti vincoli la mia resta di aia guarda guarda non mi andavi passala sennò stanno sempre a fa stessa cosa non posso costarla ma cazzo ok il quadrato salta però c'è devi saltare non è che chissà che cazzo ti fa no no rimpostano stazione capilla un uomo una leggenda allora Baines manda perchè manda da così corta c'è mo che la ti manda alta? perchè non la mandi alta? perchè non la devo manda alta? perchè non la devo manda alta? cocaani porcu mannaggia la m***a mannaggia la m***a per cicciarito come Ronaldo vaffanculo 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 dai dai mamma mia voglio il silenzio la rabbia manquarrato ma non ho 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 cioè se segnava così non andavo basta Rod proprio ma tieni lì ma no Perché? Perché sbagliato Eh ma fatti quello Viene la mia Vole Vittoria Fa vedere a quanti punti stiamo Devo vedere la classifica Che vittoria mamma mia che vittoria 13 punti Tre partite rimaste solo 3 punti Volevo fare una vittoria su 3 C'è infatti non lo so No per come fa questo gioco Tu sconfitti, tu valigi una sconfitta Cioè è così Però questa è una volta buona Se non ci riusciamo questa volta non ci riusciamo più Dai eh, alla prossima Ciao